Bravi, bravi, bravi! La de San Chassoville da Locust Alliance accetta gli animali Porta pure il tuo cane e legalo al gancio sotto l'aereo Lo troverai all'atterraggio, pettinatissimo Low Cost Airlines, l'unica compagnia dove anche i preti prima di salire si toccano i gioielli Su con la vita, giovane! Eventuali reclami sono ammessi solo se consegnati personalmente presso la nostra casella postale in Antartide Grazie a Dio Nostro